Sulle casse integrazioni e più in generale sugli strumenti di welfare, il Governo farà delle proposte, il Parlamento ci lavorerà, l'emergenza sarà affrontata con il rifinanziamento che tutti aspettano delle casse integrazioni. Ovviamente gli strumenti e le coperture saranno decisi dal Governo in linea con gli impegni assunti da Presidente Letta e il Parlamento così come è accaduto in sede di conversione del decreto sui debiti della pubblica amministrazione darà il proprio contributo provando ad avvicinare il provvedimento alle esigenze delle categorie, dei cittadini e dei contribuenti.